Pio Vaccari intanto dentro l'area di rigore e subito in vantaggio il Cittadella dopo due minuti il gol di Nassi. Nassi Pio Vaccari, attenzione perché può andare ancora Pio Vaccari, c'è Job libero Pio Vaccari, Scartacano! Pio Vaccari, ventottesimo minuto, quattordicesimo gol in campionato per Federico Pio Vaccari. Pio Vaccari in area di rigore, Pio Vaccari con il destro a Pio Vaccari, Pio Vaccari 3-0 e doppietta personale di Pio Vaccari. Attenzione italiano, palla sul secondo palo, c'è calcio di rigore, calcio di rigore per il Padova, è andato a terra Cesar. Con il destro! Di potenza vantaggiato al ventiduesimo minuto.